Perché si riconosca il giusto valore al nostro lavoro, la mobilitazione continua. I nostri contratti sono fermi da sei anni, vogliamo rinnovarli. Sciopero perché nella mia amministrazione tutto è fermo da anni, produttività, sviluppi professionali, riqualificazione. In un'Italia che vuole essere sempre più all'avanguardia e più efficiente, non possiamo permettere che questo governo continui a demotivare i pubblici dipendenti ignorando il problema dei contratti pubblici fermi da troppo tempo. Io sciopero per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di rinnovare il nostro contratto che garantirà ai cittadini una migliore viabilità. Abbiamo una viabilità da terzo mondo, uomini efficienti e mezzi inefficienti. Io domando al governo, perché non ci viene rinnovato il contratto? Come facciamo a vivere con 1.300 euro al mese quando in Italia aumenta tutto quanto ogni giorno? Io sciopero perché l'alta formazione artistica e musicale è da anni piegata sotto una riforma mai applicata dal 1999. Sciopero per il rinnovo del contratto, per dire basta le riforme che in questi anni hanno colpito in modo indiscriminato il settore dell'alta formazione e dell'università. Per dire basta l'attacco mediatico che da anni dipinge il dipendente pubblico come un fannullone ed un peso per questa società. Io sciopero per il rinnovo del contratto e per la piena applicazione dei contratti precedenti. Io sciopero per rivendicare il diritto al rinnovo del contratto di lavoro dei ricercatori, dei tecnologi e di tutta la comunità scientifica. Io sciopero il primo dicembre perché per me la sanità non si tocca. Perché noi l'operatore della sanità privata accredata lavoriamo da otto anni senza contratto. Voglio il rinnovo del contratto, lo sblocco del turnover e voglio una sanità migliore per i cittadini. Sono un vigile del fuoco e il primo dicembre sciopero perché la nostra professionalità non è più riconosciuta. Ancora abbiamo mezzi obsoleti, c'è carenza di personale e in queste condizioni non riusciamo ad offrire un servizio adeguato ed efficiente alla cittadinanza. Io sciopero per il mio contratto, per dare dignità al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che da sei anni non riceve le giuste considerazioni da parte del governo. Sono un dirigente scolastico, sciopero perché il nostro contratto è bloccato dal 2009. Aspetto come tanti miei colleghi da anni un adeguamento stipendiale. Sciopero perché non si attuino ulteriori tagli sui nostri organici. Sono un'insegnante di scuola primaria e sciopero perché chi come noi forma il cittadino del domani merita di più. Il primo dicembre sciopera anche tu.